bentornati nella mia cucina amici del canale stasera voglio deliziarvi con una ricetta davvero golosa voglio preparare insieme a voi gli occhietti di bue i biscotti quelli che hanno la marmellata di albicocca all'interno quindi per fare questi biscotti ci occorreranno 350 g di farina doppio zero 120 g di zucchero a velo 50 g di maizena naturalmente la nostra marmellata di albicocca è quella ideale per la pasticceria che non contiene la frutta a pezzettoni un pizzico di sale due uova la vanillina e 200 grammi di burro freddo mettiamoci all'opera e vediamo come si realizza allora iniziamo mettendo il nostro burro freddo di frigo a pezzettoni dentro la nostra farina andiamo a sabbiare dopo aver sappiamo andiamo ad unire la nostra maizena se non avete la maizena va bene anche la fecola di patate nella stessa quantità andiamo a mettere il nostro zucchero a velo la nostra vanillina andiamo a dare una bella mescolata andiamo ad aggiungere adesso un pizzico di sale così andiamo ad aggiungere le nostre uova uno alla volta ecco qui adesso impastiamo non per tanto tempo perché il burro non si deve scaldare quindi non appena otteniamo il nostro paletto smettiamo di impastare abbiamo ottenuto questo tipo di panetto adesso lo riponiamo nella pellicola trasparente e lo mettiamo in frigo per almeno due ore ecco qui il nostro impasto dopo due ore in frigo certo è bello ghiacciato quindi è un po sia un po indurito quindi adesso cerchiamo di stenderlo tra due fogli di carta da forno cercando di dare lo spessore giusto ai nostri biscotti magari facciamo mezzo panetto per volta ecco qui che ho tagliato un pezzo un pezzo di impasto dal totale siccome è freddo cerco di allargarlo piano piano tra due fogli di carta da forno mi aiuto con il mattarello allora dopo aver spianato un po il nostro impasto andiamo a fare le forme io prendo questo bicchiere la la circonferenza perché non mi trovo un coppapasta di una grandezza media e vado a fare la mia forma per il fondo del biscotto diciamo la parte di sotto e li vado a mettere nella mia taglia a Ecco qui, naturalmente poi faremo la parte, diciamo, la parte bucata anche, usando un coppapasta piccolo, così realizzeremo i nostri occhi di bue. Ecco qui, adesso andremo a realizzare i dischetti col buco al centro, quindi andiamo a mettere a posizionare il nostro coppapasta nella zona centrale e andiamo a realizzare questo cerchio bucato che poi andrà a ricoprire i nostri biscotti. Adesso li faremo tutti e poi vi farò vedere il risultato. Ecco qui la prima teglia pronta per il forno. Andrò ad infornare a 180 gradi per 12 minuti e dovranno dorarsi. Ecco qua i nostri biscotti smembrati ancora usciti dal forno. Adesso andremo a mettere la parte con il buco su un foglio di carta forno perché andrà spolverata con lo zucchero a bello e invece sulla parte piena, diciamo senza il buco, andremo a sciogliere nel pentolino, nella padellina, un po' di marmellata di albicoche e la spalmeremo su questi biscotti e dopo verranno assemblati. Ci vediamo dopo. Allora ho sciolto nel padellino la marmellata di albicoche, vedete? E' più liquida e così la andrò a spalmare sui miei biscotti, sulla base dei biscotti. Andrò a mettere con un cucchiaino così e quando si raffredda diventa geladinosa, cioè si attacca perfettamente al mio biscotto. una volta che abbiamo finito di spalmare la nostra marmellata, andiamo a prendere la nostra base, cioè la nostra parte col buco e la andiamo ad assemblare. ecco qui, vedete? La marmellata diventa lucida perché diventa geladinosa e adesso li riponiamo tutti nel vassoio. Adesso li faremo tutti e poi vi faccio vedere. Ed ecco qui i nostri biscotti, una parte di quelli che ho realizzato naturalmente. vedete come sono belli lucidi all'interno la marmellata, come diventa geladinosa. Adesso andremo all'assaggio e vediamo come sono venuti. questi occhietti di bue. una bontà. Questo tipo di biscotti si trova in tutte le pasticcerie di Messina e anche nei panifici. è ottimo per fare colazione, per il tè, il pomeriggio, è buono sempre. Quindi vi invito a replicare questa ricetta, a farmi sapere se vi è piaciuta e magari la provate anche voi e mi fate sapere. a iscrivervi al canale se vi fa piacere e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti!